ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerei bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco acti che era al mira la spa ultimo aggiornamento 15 ottobre 2021 cosa acti che era confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere acti che era al durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cosa acti che erano acti che era la un farmaco a base del principio attivo fluorouracile più acido salicilico appartenente alla categoria degli dermatologici e nello specifico analoghi della pirimidina e commercializzato in italia dall'azienda almira la spa acti che era al può essere prescritto con ricetta rrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti confezioni acti che era al 5 mg baragi più 100 mg baragi soluzione cutanea 1 flacone da 25 ml con applicatore informazioni commerciali sulla prescrizione titolare almira l'ermal gmbh concessionario almira la spa ricetta rrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe a principio attivo fluorouracile più acido salicilico gruppo terapeutico dermatologici forma farmaceutica soluzione indicazioni acti che era l'ha indicato per il trattamento topico di keratosi attini che ipercheratosi che leggermente rilevabili al tatto e barra o moderatamente spesse grado i barra ii in pazienti adulti immunocompetenti l'intensità dei gradi barra ii si basa sulla scala 4 punti di olsen et al 1991 vedere paragrafo 5 1 posologia posologia adulti acti che era al si applica una volta al giorno sull'area interessata fino a 25 cm 2 finca copyright le lesioni non sono completamente guarite o fino a un massimo di 12 settimane se si verificano effetti indesiderati gravi ridurre la frequenza di applicazione del medicinale a tre volte a settimana finca copyright gli effetti indesiderati non migliorano se le zone cutanee sottoposte a trattamento sono caratterizzate da un epidermide sottile la soluzione deve essere applicata con minore frequenza e la terapia monitorata pian spesso gli effetti possono essere osservati già dopo 4 settimane vedere paragrafo 5 1 la risposta aumenta nel corso del tempo e i dati disponibili coprono un periodo di trattamento massimo di 12 settimane la guarigione completa delle lesioni o l'effetto terapeutico ottimale possono tardare a manifestarsi e richiedere fino a otto settimane dopo la fine del trattamento il trattamento deve essere protratto anche in assenza di miglioramenti dopo le prime quattro settimane nella valutazione delle opzioni per il trattamento di recidive il medico deve considerare che l'efficacia del trattamento con acti che era non è stata formalmente valutata in studi clinici popolazione pediatrica l'uso di acti che era al per l'indicazione di keratosi attinica nella popolazione pediatrica non ha indicato anziani non ha necessario alcun aggiustamento di dose metodo di somministrazione acti che era l'ha indicato solo per uso cutaneo i dati disponibili indicano la possibilità di trattare fino a 10 lesioni singole contemporaneamente le keratosi attiniche multipli e la pelle circostante possono essere trattate contemporaneamente quando si preferisce un trattamento miratola euro scampo di cancerizzazione a euro s l'area totale di pelle trattata con acti che era non deve cedere 25 cm 2 5 cm x 5 cm acti che era al viene applicato mediante l'utilizzo di un pennello unito al tappo del flacone per evitare un eccesso di soluzione sul pennello lo stesso deve essere pulito sul collo del flacone prima dell'applicazione facendo in modo tuttavia di lasciare una quantità sufficiente di prodotto per la formazione della pellicola una volta asciutto l'area trattata non deve essere coperta dopo l'applicazione è la soluzione deve essere lasciata asciugare affinca copyright si formi una pellicola sul sito di applicazione prima di ogni nuova applicazione di acti che era la pellicola già presente deve essere rimossa sollevandola delicatamente per facilitare l'operazione a possibile utilizzare acqua calda acti che era non deve essere applicato sulla pelle in presenza di peli poichà copyright si può verificare con glutinazione dei peli nell'area trattata per trattare tali aree rimuovere i peli prima di applicare il prodotto controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi oa 1 qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 acti che era la controindicato in gravidanza e allattamento vedere paragrafo 46 acti che era non deve essere usato nei pazienti affetti da insufficienza renale acti che era non deve essere usato in concomitanza con brivudina sorrivudina relativi analoghi i suddetti farmaci sono dei potenti inibitori della didro pirimidina di idrogenasi dpd un enzima coinvolto nel catabolismo del fluoro uracile vedi anche paragrafi 4 4 e 4 5 acti che era non deve entrare in contatto con gli occhi o con le membrane mucose avvertenze speciali e precauzioni di impiego enzima dpd l'enzima di idro pirimidina di idrogenasi dpd svolge un ruolo fondamentale nel catabolismo del fluoro uracile un inibizione una carenza o una ridotta attività di questo enzima può provocare un accumulo di fluoro uracile vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione l'enzima di idro pirimidina di idrogenasi dpd svolge un ruolo fondamentale nel catabolismo del fluoro uracile gli analoghi nucleosidici come la bri budina e la soribudina possono provocare un forte aumento delle concentrazioni plasmatiche di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere acti che era al durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere acti che era al durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza non esistono dati relativi all'utilizzo di fluoro uracile topico in gravidanza un effetto teratogenico a stato osservato in animali dopo somministrazione sistemica di fluoro uracile vedere paragrafo 53 l'acido salicilico può a vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari acti che era al non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza nella maggior parte dei pazienti trattati con la soluzione per la cheratosi attinica si sono manifestate irritazione e infiammazione da leggera moderata al sito vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio se il prodotto viene applicato sulla cute in base alle raccomandazioni a improbabile che i principi attivi provochino intossicazioni sistemiche un numero di applicazioni significativamente maggiore di quello raccomandato provocherà un aumento della frequenza delle reazioni al sito di applicazione della loro gravità proprietà farmacodinamiche categoria farmaco terapeutica agenti antineoplastici antimetaboliti analoghi della pirimidina codice atc l01bc 52 meccanismo d'azione del fluoro uracile il principio attivo fluoro uracile a un citostatico con effetto antimetabolita avendo una struttura simile a proprietà farmacocinetiche in uno studio di assorbimento realizzato su maiali non ha stata rilevata presenza di fluoro uracile nel siero dopo l'applicazione cutanea anche in elevate quantità vale a dire che la quantità dati preclinici di sicurezza nessun dato sperimentale relativo alla tossicità acuta e sub cronica del fluoro uracile dopo applicazione topica disponibile studi effettuati nei ratti confermano la biodisponibilità sistemica dose dipendente del fluoro uracile con reazioni locali elenco degli eccipienti di metil solfossido etanolo anidro etilacetato pirossilina poli but il metacrilato metil metacrilato fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione ti ha aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato